Telecom mette in guardia contro le radiazioni Wi-Fi. Nelle istruzioni per l'uso del router Telecom Speedport, un dispositivo di rete per la connessione a Internet, nel capitolo Istruzioni per la sicurezza e le protezioni dei dati, si trovano le seguenti avvertenze relative alle onde Wi-Fi. Le antenne integrate nel vostro Speedport trasmettono e ricevono impulsi radio, per esempio per il collegamento del vostro Wi-Fi. Evitate di instruire lo Speedport nelle immediate vicinanze di camera da letto, camerette per bambini e zone giorno, per limitare il più possibile l'esposizione ai campi elettromagnetici. Ma allora dove si può mettere il router in un appartamento? Che dire di Wi-Fi in aule, ospedali, treni, alberghi e luoghi di lavoro in generale? Lì l'esposizione ai campi elettromagnetici è ridotta al minimo possibile. Studi indipendenti confermano che le onde Wi-Fi possono causare vertigini, mal di testa, problemi alla vista, arritmie cardiache, persino il cancro. La Telecom con questi vaghi avvertimenti cerca di cautelarsi segretamente dai danni alla salute di lunga data causati dal Wi-Fi? Grazie. Grazie. Grazie.